Buonasera a tutti, siamo con Luca Russo, estremo difensore dell'Oriano in istanti. Allora ti vedo un commento alla fine di questa partita. È stata una bella partita, complimenti agli avversari, una gran bella squadra. Noi abbiamo giocato abbastanza bene, stranamente perché non ci capita spesso, perché poi a volte siamo troppo nervosi, abbiamo troppa fretta, eccetera eccetera. Oggi abbiamo giocato molto molto bene, abbiamo fraseggiato, abbiamo giocato da squadra e abbiamo portato a casa questo risultato che fa morale. Sì, anche nel primo tempo, ho visto anche grazie alle giocate di Faria e Di Sambre, avete giocato anche un ottimo primo tempo. Poi anche come hai visto i movimenti della difesa? Ti sono piaciuti? La difesa, io ho mostrato tre anni che gioco con loro, la difesa comunque è sempre stata una gran bella difesa. Ovviamente che vuoi, ci sono anche delle giornate che magari qualcosa non gira, ma oggi è stato impeccabile, comunque abbiamo fatto tutti una bella prestazione. Hai menzionato Samb, Reda, Samad, sono ragazzi che quando giocano e hanno voglia possono fare tranquillamente la differenza, insieme anche al nostro bomber insommortabile che continua a darci soddisfazione nonostante l'età. Va bene, grazie in bocca al lupo per il torneo. Grazie a voi e grazie per l'inbocchino.